wow 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 ragazzi ed eccoci qua con un video un po diverso da solito sempre per il meme allora sempre per la battuta diverso da solito se sentite quella parte è normale purtroppo qua l'usanza in puglia cioè in tutta sud italia ma per lo più in puglia è parlare ad alta voce e poi si lamentano quando faccio casino voi parlate ad alta voce è normale che pure io poi faccio casino mentre streammo comunque dai a parte gli scherzi il video riguardante quello che è successo tra Fedez e Luis cosa ne penso molti mi hanno fatto eh ma cosa ne pensi qualcuno vabbè le solite cavolate cosa ne pensi però voleva darmi una reazione molto negativa e offensiva ma tranquillamente non ho nulla contro Fedez non sono un grande fan di Fedez lo ammetto non ho problemi a dirlo però non ho nulla contro Fedez nemmeno contro Luis anzi vi devo dire che qualche video di Luis l'ho visto YouTube e mi come posso dire mi cioè mi interessano i video più di Luis che eventuale musica di Fedez senza offesa per Fedez non stava in Oscar però non ho avuto l'occasione di potermi fare la foto o almeno dirgli guarda io mi divertivo quando vedevo le tue live su Twitch e mi sarei fatta volentare la foto con lui ma per una questione tra streamer e streamer lasciando stare l'ambito musicale comunque a parte questo non è l'ecchinaggio però se mi volete invitare al al vostro muschio selvaggio almeno voglio dirgli la mia vi dico soltanto che questo è tutto un video come posso dire per creare hype è ok che Fedez si arrabbia spesso ma io mi arrabbio spesso cioè se si arrabbia da un mito tv può arrabbiarsi anche Fedez perché nel senso siamo tutti uguali nel senso si vede paresemente che è tutta una cosa per creare hype lo si vedrà di sicuro in qualche filmato Luis di un eventuale videoclip di Fedez quando farà un'altra canzone o tra due canzoni oppure quando ci sarà qualcosa riguardante apparirà Luis nel videoclip è tutta una cosa per creare hype perché ovviamente Luis lavora con web ovviamente ha un contratto di sicuro ha firmato un contratto in cui doveva fare un paio di servizi o addirittura dovrà lavorare per qualcun altro di sicuro per un tanto tempo e ovviamente ha detto ok stare distaccato per un paio di periodi di questo tempo poi ritorna a fare le stesse cose con noi e hanno trovato mezza cosa per creare hype a parte che si vedeva anche Fedez che quando parlava ogni tanto qualche sghigno qualcosina cioè si vede a parte un po' più di recitazione ti servirebbe Fedez però dal resto io credo e questo sia una mia opinione che è tutta una balla per creare hype così poi quando ritornerà Luis in un'unica puntata e se ho ragione Fedez e Luis mi dovete invitare come ospite perché è come il miglior detective che ha sgamato la falsa trial perché si per me è una cavolata nel senso lo stanno facendo soltanto per hype ma secondo voi realmente due persone che su YouTube hanno come posso dire visibilità si vanno a litigare e a lasciare un progetto poi soprattutto entrambi hanno l'accesso e entrambi hanno caricato un video diciamo che quando qualcuno ha un accesso e si sono litigate spesso nel 99% dei casi una persona cambia password qualcuno avrebbe fatto un dispetto e avrebbe chiuso l'account addirittura più che chiuso avrebbe cambiato password avrebbe fatto avere soltanto un'unica persona cioè sarebbe succeduta questa cosa qua che poi non è l'indole né di Fedez e né di Luis di fare una cosa del genere però nel 99% dei casi se una persona ha un canale più di una persona quindi due o tre persone hanno un canale capita che quando si litigano nel senso succede casino al momento ci stanno altre puntate di Moschio Selvaggio l'altra con Mr. Marra che saluto e Giulio ho detto questa è tutta una cosa hype per creare menzionina soprattutto quello che recita meglio è Luis però Fedez è facilmente sgammabile in cose che diceva nel senso ma non per quello che diceva che poi se sono cose vere riguardante che chiedeva i soldi per dare la quota in quel caso è una cosa grave e sa cose che si sono fatte la cosa a vicenda in maniera goliardica per creare hype come ho detto però giuro se ho sgamato la verità e scopro che è tutta una menzogna voglio Fedez e Luis che mi invitate nel vostro programma almeno così diventa un po' più bello il programma almeno ovviamente PS Fedez farai parlare pure meno meno che parli soltanto il 90% dei casi solo te che su quello Luis ha ragione cioè parli un altro po' più te che lo ospite tanto vale vatti a fare un podcast da solo e no comunque si scherza ragazzi goliardia vi voglio bene entrambi anche se ho detto non sono un grande fan della musica di Fedez però non ho nulla contro spero questo video della mia opinione su quello che è successo tra muschio e selvaggio vi sia interessato come ho detto per me è tutta una cosa fake per creare hype effettivamente è tutta una cosa goliardica che hanno fatto e io ho ragione non è che io ho ragione in modo in mente ho ragione e se indovino questa cosa voglio come minu che mi invitano come ospite che cazzo è impossibile che non inviti Don Vito TV eh scusa e niente grazie a tutti di aver visto questo video vi ricordo di condividerlo ma condividetelo con Fedez e Luis sai rompete le scate guarda Don Vito TV forse vi ha sgamato a Kung vi piace la maglia a tema Mario Academia di Dodoro però sono un grande fan di Dekuio comunque ci si vede tranquillamente in live ciao iscrivetevi tutti a Don Vito TV 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 iscrivetevi tutti a Don Vito TV